Quali sono i tuoi obiettivi per quest'anno, sportivi? Ti faccio una domanda secca, scusami. È normale, no, è sempre parlato, quindi gli obiettivi sono il Tour de France, quindi vediamo di far bene. Il Tour de France. Ascolta, per un messaggio per i giovani, come si fa a vincere senza doping? Come si fa a vincere? Bisogna trovare sicuramente le persone giuste, persone affidabili e poi sperando che anche il papà quando ci vuole magari lo metta sulla dritta via senza cercare di fargli fare sbagli e poi deve essere anche bravo lui, consapevole dei propri mezzi che ha e accettare il risultato che viene. Grazie Vincenzo Nipari, grazie.